Gli editori da Legnano, la Fondazione Famiglia Legnanese con la Banca di Legnano presentano antichi libri dei da Legnano in mostra. Un'iniziativa della Fondazione della Famiglia Legnanese con la Banca di Legnano. L'insegna dell'angelo indica la bottega di Milano dove nella seconda metà del Quattrocento gli editori da Legnano vendono libri fatti stampare a loro spese. Con notevole senso degli affari, Giovanni intraprende nel 1480 un'attività che i figli, con il nome di Fratelli da Legnano, proseguiranno, anche se non in maniera regolare, fino al 1525. A Giovanni va senza dubbio il merito di aver compreso le opportunità straordinarie rappresentate dall'epoca dal mestiere di editore. Risale a pochi anni prima, infatti, l'invenzione di Gutenberg dei caratteri mobili a stampa, utilizzate a Magonza per la sua famosa Bibbia delle 42 righe del 1455. Inoltre la pubblicazione del Lattanzio presso il monastero di Subiaco nel 1465, solitamente considerato il primo libro stampato in Italia e costituisce l'avvio di una vera e propria rivoluzione nella trasmissione della cultura. Essa caratterizza quel periodo denso di studi ed irriverente rispetto per la classicità e per il passato che, non a caso, prende il nome di Umanesimo Rinascimento. In Italia è tutto un rifiorire di stampatori. Nella seconda metà del Quattrocento si contano almeno 72 località con la presenza di questi artigiani, di cui il più rinomato è forse il veneziano Aldo Manuzio. Infatti, nella città lagunare, dove l'attività si sviluppa più che altrove, nel corso del XV secolo, lavorano circa 200 tipografi italiani e stranieri. Anche a Milano il lavoro ferve. Tra il 1471 e il 1500 escono un migliaio di edizioni da una trentina di tipografie. A molte di queste si sono rivolti da Legnano per i loro libri contrassegnati dal marchio dell'Angelo. A distanza di 500 anni circa si ripetono le favorevoli circostanze di allora. La Fondazione Famiglia Legnanese, ente morale riconosciuto con un decreto del Ministero dell'Interno del 1 agosto 1996, ha ricevuto, dopo accurato restauro, da privato in donazione alcuni esemplari, originali di 500 degli editori da Legnano, che, grazie alla lungimiranza imprenditoriale e alla sensibilità più volte dimostrata dalla Banca di Legnano per la cultura, ora possono essere esposti in visione agli occhi del pubblico e sottratti all'oblio del tempo. Si tratta di una trentina di opere complete, datate dal 1501 al 1521, per la maggior parte classici in latino, con commenti vari come le pistole ai familiari di Cicerone, le commedie di Terenzio e gli epigrammi di Marziale e l'Orlando furioso del Riosto. Insomma, quello che non poteva mancare nella biblioteca di un umanista. Tra le pubblicazioni in italiano spicca, non solo per le dimensioni, la veridica e memorevole storia di Milano, dalle origini fino al 1499, di Messer Bernardino Corio, un'autentica rarità commissionata da Ludovico al Moro. Il restauro è stato eseguito dal Laboratorio delle Suore Benedettine dell'Abbazia di Viboldone. I pezzi più interessanti saranno esposti nella sala degli sportelli della Banca di Legnano a partire dal 27 febbraio 2006, inaugurazione alle 17.30, e fino al 24 marzo. Grazie a tutti!